Ci salva anche Afrin, Ordogan. Ordogan lo sappiamo bene. Quali sono le città dei kurdi? Eppure tutto il mondo lo sa che lui ha arrasato. Eppure tutto il mondo lo sa che lui ha arrasato. Eppure tutto il mondo lo sa che lui ha arrasato. Non solo il mondo lo sa che lui ha avendo. Grazie a tutti.